Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi sabato 5 ottobre. Vi ricordo come sempre che lunedì ci sarà Quarta Repubblica e che la zuppa di Porro e tanto altro lo troverate sul sito nicolaporro.it. C'è un fantastico sgarbi su Greta che vi consiglio a tutti quanti ma tante altre cose come sempre di sabato sul mio sito. Il tema fondamentale ovviamente di tutti quanti il giornale di oggi è l'assassinio di due poliziotti da parte di un 29enne dominicano e forse oggi il giornale che senza leggersi tante ricostruzioni lo fa meglio è Repubblica perché fa una serie di vignette drammatiche, drammatiche vignette su quello che è accaduto ieri in questura a Trieste. Tra l'altro molto simile mi viene da dire a quello che è avvenuto in una prefettura francese poche ore prima quando invece in quel caso un dipendente di quella prefettura ha ammazzato quattro persone con un coltello, ma in quel caso per un motivo di fondamentalismo islamico. In questo caso non c'è nulla di tutto ciò perché quello che è avvenuto è che semplicemente questo qui addirittura, non l'avevo capito ieri, si è consegnato pentendosi dopo aver rubato un motorino, i poliziotti l'hanno preso, l'ha portato in questura, questo ha tolto dalla fondina una pistola di uno dei poliziotti e ha fatto fuoco, è scappato, ne ha ferito un altro, poi l'hanno rincorso e l'hanno ferito. A sua volta il fratello che era venuto da Manforte o comunque arrivato lì in prefettura è stato arrestato. Ma il punto fondamentale ovviamente è che il capo della polizia ieri ha parlato e i commenti oggi sui giornali si sprecano e dobbiamo stare molto attenti su questa vicenda perché è una di quelle vicende borderline in cui però esce fuori il mondo non solo della politica, del pensiero italiano nei confronti delle forze dell'ordine. Franco Becchis oggi sul Tempo dice insomma ieri tutti a piangere questi poliziotti uccisi eccetera ma sono gli stessi che giorni prima avevano invece detto che la polizia era carnefice e crudele per una manifestazione che si era seduta a Roma in cui peraltro era stato anche ferito un parlamentare di Leo che Stefano Fassina, io lo conosco una persona veramente gradevole e direi poco facinorosa ma comunque insomma si era detto che la polizia era cattiva dal muso duro eccetera quindi sono gli stessi che poi dopo si lamentano di quello che è avvenuto e oggi fanno così la mette Becchis e oggi fanno le condoglianze a questi poveri poliziotti uccisi. L'altra cosa che io vi segnalo che non hanno letto molto sui giornali è la stessa polizia che o gli stessi carabinieri poco conta perché sono sempre forze dell'ordine nella opinione collettiva per i quali stanno passando un pasticcio perché i due americani che avevano arrestato, vi ricorderete, per l'omicidio Cercello avevano messo una benda in faccia a uno di questi e per quella benda in faccia rischiano le decurtazioni dello stipendio, processi eccetera mentre quelli stanno lì a fare il giusto processo italiano quindi insomma abbiamo un atteggiamento ogni tanto schizofrenico nei confronti dei poliziotti qualcuno dice sono deboli, come dice mi sembra lo chef Rubio, esiste uno chef Rubio che oltre a attaccare Salvini attacca i poliziotti e dice non mi sento ben difeso da questi poliziotti perché sono quelli che malmenano evidentemente Fassino e quelli che si fanno ammazzare in questura questo è il non detto di quel genio dello chef Rubio che invece di rompere i coglioni con le sue dichiarazioni sarebbe meglio che cucinasse qualcosa di recente immagine ma comunque lasciamo perdere lo chef Rubio, il principio resta ed è quello che ogni tanto ci dimentichiamo che le forze dell'ordine sono talmente costrette in una serie di norme di paletti, di prudenze per le quali io capisco, lo faccio da liberale cioè non devono esagerare, le forze dell'ordine non si possono permettere minimamente di utilizzare violenza nei confronti dei privati, c'è poco da fare però forse magari proteggersi, utilizzare elementi di protezione e di prudenza nei confronti di se stessi forse glielo possiamo concedere ecco in un paese normale e liberale Repubblica dice immigrato regolare con problemi psichici Sallusti dice insomma adesso però iniziamo a dire le cose come stanno e tra l'altro Sallusti è a buon gioco a dirle perché ieri il capo della polizia Gabrielli le ha dette e cioè che la sicurezza non è una questione di percezione, è una questione vera e soprattutto pensate un po' voi uno che ammazza due poliziotti in questura quante altre persone avrebbe potuto ammazzare non in questura ma l'altra cosa che dice Gabrielli e dicono Sallusti oggi sul giornale è che ci sono pochi cazzi qua ve lo dico esattamente in Italia gli stranieri sono coinvolti in un reato su tre gli stranieri sono il 10% della popolazione eppure un reato su tre è fatto dagli stranieri e questo trend è in aumento e dice il capo della polizia Gabrielli è un dato in equivoco bene lo dice il capo della polizia che non è un pericoloso sovversivo salviniano tutt'altro anzi mi sembra che sia più o meno moderato insomma questa storia drammatica di Trieste cosa ci dice che c'è un problema di sicurezza, che c'è un problema di immigrazione che c'è un problema di stranieri che delinquono è inutile che ci prendiamo per i fondelli, bisogna mettere le terze cose e quarto elemento non smettetela di dirla che è un problema di percezione non solo in Italia, in tutto il paese occidentale il problema della sicurezza è il problema grazie a Dio perché forse ne abbiamo risolti altri la fame, l'istruzione rispetto a 50 anni fa, 60 anni fa e quindi la sicurezza è diventata un problema perché siamo giustamente nei confronti della sicurezza molto ma molto più esigenti andiamo avanti questioni diciamo più o meno economiche ma no, andiamo alla politica Mike Pompeo intervistato dalla stampa il segretario di Stato che sta facendo il giro in Italia dice a Molinari l'Italia stia attenta alla Cina il partito comunista cinese può usare i vostri dati in Pompamagna ricevuto Pompeo se dice una cosa di questo tipo nei confronti della Cina fa anche sapere e capire bene per quale motivo il filo cineismo degli italiani il filo, come si può dire il filo, l'amicizia dei confronti italiani nei confronti dei cinesi non piace affatto agli americani brava Lusi, Gabriele era quello che andava contro Salvini Monica, occorre più sicurezza nelle caserne, polizie anche strutture sanitarie pensate un po' voi quello che succede a ragione nelle strutture sanitarie con queste povere infermiere infermieri trattati e malmenati da immigrati non tutti ovviamente ma da quelli un po' fuori di testa l'Italia nel frattempo col paracadute niente commistioni tra concessioni e compagnia aerea dice Conte però insomma fa un po' ridere il Presidente del Consiglio che dice che non ci sia commistione tra il salvataggio della compagnia aerea e le concessioni perché è il loro che hanno detto Conte ha detto ai Benetton che gli avrebbe tolto le concessioni oggi fa il fichetto il Conte 2 e per esempio da Palazzo Chigi che cosa sta uscendo? non toccheremo le concessioni di autostrade fino a quando non sarà concluso l'iter giudiziario è lo stesso Conte che ha detto che gli toglieva le concessioni subito è lo stesso Conte che dopo il Ponte Morandi ha detto che gli avrebbe fatto un culo così ai Benetton e oggi piagnucola perché autostrade dicono scusami da una parte mi togli le concessioni e dall'altra vuoi che metta 350 milioni in all'Italia ma che siete scemi Conte intanto risponde anche a Renzi perché si è un po' ovviamente montato la testa giustamente Presidente del Consiglio che riesce a fare per due volte Presidente del Consiglio senza aver preso un voto senza avere un'abilità senza avere niente se non essere in buoni rapporti con le sue 5 stelle con tutti i leader mondiali beh insomma anche perché non mi sembra che gli dia grande torto Conte a Renzi dice se ogni giorno marchi lo spazio del tuo territorio caro Renzi qua finisce il governo tra l'altro i sondaggi di Repubblica di oggi dicono che questo governo sta andando malissimo dal punto di vista dei sondaggi 40% il gradimento di italiani ed è sceso di 4 punti percentuali oggi qualcuno ci dice mi sembra che Corriere della Sera che questa manovra piace agli italiani nel frattempo il governo non piace come le mettiamo insieme le due cose Pine, Apple, Apple, Pen come le mettiamo insieme boh mettiamo Repubblica e Corriere della Sera e cerchiamo di capire come metterle insieme nel frattempo la rega non crolla ma non sale al 30% e c'è un balzo secondo il sondaggio della Repubblica incredibile fortissima di Fratelli d'Italia della Meloni che sarebbe arrivato all'8,6% perotti su Repubblica c'è un po' di economia ci dice non serve a niente è inutile che la fate facile voi economisti non so se ce l'ha con Alessina e Giavazzi che dite tagliate, tagliate, tagliate perché tagliare la spesa pubblica è un casino e c'è il mea culpa di Calenda ho capito che il liberalismo è una stronzata è una cazzata dice Calenda e c'è un piccolo particolare e fa toc toc lettieri amico mio non sei mai stato liberale cioè sei favoloso è un argomento retorico quello di Calenda chi c'è caduto perché Calenda si presenta bene fa finta di essere un oppositore del centro-sinistra ce l'ha contro questo governo Conte tutte cose simpatiche ma come gli ricorda bene Ferrara l'assistente di Montezemolo l'assistente di Monti l'uomo che è diventato ambasciatore grazie a Renzi questo signore non è mai 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 stato un liberale e quindi la sua jacuzze è come se io dicessi io finalmente ho capito che il socialismo è una cazzata che per 30 anni vi ho detto delle cose socialiste sbagliate non sono mai stato socialista e questo glielo riprova giustamente Lottieri Ferrara fa un discorso un po' più strano non si capisce moltissimo però mi sembra critico nei confronti di Calenda nella prima pagina del foglio in cui dice attenzione a non buttare via il liberalismo e la democrazia liberale non so cosa c'entri molto però insomma il pezzo è anche simpatico nella sua cosa dal punto di vista diciamo dei giornali divertente la verità che continua a parlare della maleducazione della gruba verso tutti gli ospiti di destra se vi diverte guardatelo il pezzo sulla verità è da consigliare Travaglio oggi se la prende sulla prescrizione la prescrizione è un missile puntato sui vostri culi di cui non vi rendete neanche conto è come il decreto dignità sono quei decreti che passano sotto tono ma che fanno un casino della madonna che fanno casino che rompono i coglioni e uso la parola coglioni scusate la volgarità perché la usa Travaglio sentite cosa dice ora Bonafede il ministro della giustizia potrà riformare la giustizia senza il solito Salvini che rompe i coglioni questo scrive Travaglio cioè dice che Salvini gli rompe i coglioni e oggi a rompergli i coglioni sarebbero sulla riforma della giustizia sarebbero PD e Renzi vedete Bonafede è uomo chiaramente di Travaglio dei magistrati guarda caso è l'unico ministro che è stato confermato gli altri Renzi PD e Salvini che rompono i coglioni sulla prescrizione a Bonafede come dice Travaglio fanno il loro mestiere sono stati eletti c'è una democrazia o fino a prova contraria soltanto i magistrati Travaglio e Bonafede comandano in questo paese soprattutto avete capito cosa vuol dire la prescrizione fine mai che voi rischiate con questa magistratura di essere indagati per tutta la vostra vita mi fanno una querela perché sto dicendo le cose sulla zuppa che non vi piacciono la querela ci mettiamo tre anni quattro anni cinque anni come succede io pensate per il caso Marcecaglia ce ne ho messi sette dopo cinque anni mi assolvono se dopo cinque anni mi assolvono possono riappellarsi contro la soluzione nonostante la prescrizione valga sette anni e mezzo per la mia querela oggi il che vuol dire che io posso stare quindici anni vent'anni cioè senza alcuna fretta senza nessuna diciamo velocità posso essere indagato per i prossimi vent'anni e loro ti dicono ma che ti frega di essere indagato siate voi indagati per vent'anni pagate voi un avvocato per vent'anni sapete quanti sono le notizie di reato oggi che arrivano a Milano ogni giorno tra mille e mille cinquecento ne parlavo ieri sera con un mio amico avvocato tra mille e mille cinquecento e secondo voi il tema è quello della prescrizione o quello di riuscire a capire esattamente quali di queste notizie di reato conviene davvero perseguire e quali no con questa specie di obbligatorietà dell'azione penale saremo indagati a vita quello che vuole Travaglio per poter fare il titolo l'indagato porro cioè non finisce mai la condizione di indagato ma vaffanculo parliamo di cose serie purtroppo questa è l'unica cosa seria il Di Maio si fa per ridire ridere parla ieri di rimpatri veloci cioè sostanzialmente avrebbe fatto un decreto interministeriale in cui individuato tredici stati in cui il tempo di decisione dei rimpatri passerebbe da due anni a quattro mesi secondo tutta una serie di sveltimenti burocratici Carlo cosa giusta fantastica se così fosse che il ministro degli esteri riesce a fare con questa bacchetta magica riesce a passare da due anni a quattro mesi il punto è che Carlo Nordio giustamente oggi sul messaggero se lo cucina dice questo è come Conte un mese fa che dice che sarebbero state fatte nelle distribuzioni o come gli accordi di Malta che dicono che avrebbero cambiato tutto quanto il sistema di migrazione in Europa mentre stanno sbarcando molto più di prima insomma non ci crede ma non ci crede non perché ce l'abbia con Di Maio Nordio sul messaggero ma perché ha visto che le dichiarazioni in termini di migrazione in Italia valgono 0 0 nel frattempo solo le 24 ore un danno mostruoso sti cazzoni riusciranno a farlo verso l'unica cosa buona fatta dal passato governo sapete qual è l'unica cosa buona? la flat tax fino a 65 mila euro non tanto perché paghi poco perché poi loro ti dicono paghi il 15% col cavolo che paghi il 15% paghi vero il 15% poi il 27 o 28% che paghi all'Inps che è una merda che è una tassa non avrete mai quella pensione quindi stiamo parlando di gente che guadagna 50 mila euro e su questi 50 mila ci paga 15% di tasse e 30% di Inps il 45% non mi dite che l'Italia anche questi qua pagano poco di tasse anche se l'Inps dicono sono contributi ti ridranno la pensione ma quando mai ma quando mai ma comunque sia questi cazzoni l'unica cosa che hanno fatto con la flat tax comoda è che non pagavi e che era facile che era banale che era semplice che ci riusciva anche un bambino di 5 anni a fare il forfettario non dovevi tenere i conti non dovevi tenere le fatture passive fantastico beh vorranno mettere dei nuovi paletti spiega solo le 24 ore per evitare l'abuso della flat tax fino a 65 mila euro complimenti cazzoni di politici italiani se fanno questa cosa qua dimostrano quello che sono cioè gente che fa finta di combattere l'evasione ma che tutta la vita è stata pagata soltanto con il cedolino da merda di dipendente non merda di dipendente quella merda del cedolino che non ti fa vivere in un mondo normale ti arrivano i soldi sul tuo conto corrente ti tolgono loro le tasse neanche te le fanno vedere c'è gli scatti di anzianità non è una vita bella è semplicemente quello che viene tra i dipendenti ci sono milioni di persone che questa cosa non gli succede che sono dipendenti per tre mesi che sono autonomi che fanno una vita nel cercare di rimediare un cliente che devono combattere con le fatture col bollo di merda da due euro sulle fatture bene tutta questa roba qua quelli che leggifrano non ce l'hanno molto bene in testa vi do un grande abbraccio vi do un appuntamento a domani con la zuppa di porro sito nicolaporro.it tante altre informazioni anzi tante altre contro informazioni direbbero negli anni 70 ciao